Il 28 febbraio è la giornata mondiale delle malattie rare. Si conclude oggi un percorso che è durato oltre un mese e che non si arresta a questa giornata. Quali sono state le tappe di questo lungo mese e che cosa vi aspettate? Abbiamo iniziato il primo di febbraio con una tappa al ministero, poi siamo andati il 3 a Pescara, il 6 a Firenze e devo ricordarmele tutte, il 13 siamo stati in Udenza Papale, il 15 a Napoli, il 16 di nuovo a Napoli, il 18 siamo stati a Potenza, il 20 a Bari, mi sono dimenticata Roma con la tappa dei pulmini, il 21 a Bologna, il 27 al Senato e il 28 siamo qui oggi a concludere questa maratona delle malattie rare. Le malattie rare non sono solo un aggiornato, l'abbiamo visto, è un percorso lungo. Quanto è importante la collaborazione con le istituzioni, i medici e tutti gli stakeholder che insieme a voi supportano la causa dei malati rari? Abbiamo scelto l'hashtag Uniamo le Forze proprio per far capire che solo insieme, facendo rete, possiamo ottimizzare tutto il sistema e arrivare a trovare delle soluzioni pratiche e concrete per le persone con malattia rara, quindi fondamentale la risposta che le istituzioni ci hanno dato e gli stessi politici avendo messo insieme in tutti gli eventi tantissime personalità. Oggi assisteremo anche ad un passaggio di consegne tra la vecchia legislazione e quella nuova. Cosa vi aspettate in questo passaggio? Ci aspettiamo che ci sia una collaborazione molto stretta fra le istituzioni e le rappresentanze dei pazienti. Abbiamo fatto questo accordo con Favo e con AIL proprio per far sì che gli interlocutori politici abbiano un riferimento unitario che rappresenta la voce di tutti i pazienti e ci aspettiamo di poter fare grandi cose insieme.